Questo è un lavoro fatto soprattutto da Corrado Venturini, che è un geologo di Bologna, ma carnico di origine, con il quale collaboriamo spesso. Vediamo questi grandi bacini, qua siamo per esempio su quello di Sutrio. Ecco, pochi sanno appunto che nella valle tra Sutrio e Paluzza c'era un grande lago. C'era un grandissimo lago, uno dei più grandi, forse nel nostro territorio. La frana che era discesa alla fine dell'epoca, dell'ultima età glaciale, quindi diciamo per semplificare diecimila anni fa, proprio da questa zona, dal monte di Rivo, e chi va su e raggiunge Paluzza la vede bene questa nicchia di stacco, ha causato il blocco del corso del Butte e la formazione di un grande lago che probabilmente è rimasto per un periodo anche abbastanza lungo, forse mille, duemila anni, e che occupava tutta questa valle. La stessa cosa è successa in Valpesarina, a Sappada, un altro paleolago interessante. E li troviamo, li riconosciamo adesso perché le morfologie ci aiutano a ipotizzare il fatto che potessero esserci. Ma dopo, in qualche affioramento, vengono fuori questi livelli di limi lacustri che sono proprio la prova, la pistola fumante, del fatto che in queste zone ci fossero dei laghi, così come era nella zona di Raeble, appunto, che è un'altra zona che aveva, più verso Tarvisio, che ha avuto grandi laghi che occupavano il territorio. E anche Paolaro. Paolaro ha avuto il suo lago. E sono bacini che avevano dimensioni, diciamo, probabilmente, quello di Forni era forse più grande di tutti i laghi frullani attuali. Questi bacini avevano dimensioni superiori a quella del lago di Cavazzo, quindi belli corposi. Ecco, quello di Paolaro, ad esempio, si stendeva ai piedi del Tersadio. Esatto, ai piedi del Tersadio, quindi tutto quello che è l'attuale abitato di Paolaro era quella volta coperto da un bel bacino lacustro. La parte di valle che vedete proprio in queste immagini riprese, proprio dalla Creta di Mezzodì. Bene, dicevamo prima delle escursioni che volevamo proporvi, ce n'è una seconda, quella che ci porta a visitare i laghi di Festons. Laghi di Festons, termine laghi, anche qui forse un po' altisonante per questi piccoli specchi d'acqua che ormai fungono grossomodo da beveratoi, però sono inseriti in una conca talmente bella, talmente interessante anche dal punto di vista zoologico, ambientale, naturalistico, che veramente vale la pena visitarli. I laghi di Festons possono essere raggiunti più facilmente da Sauris di sopra, stiamo parlando della zona, proprio quella serie di elevazioni prevalentemente erbose che si trovano a nord di Sauris, può essere raggiunto, dicevo, da Sauris di sopra con una comoda strada che dal centro del paese sale ai laghi di Festons oppure con un percorso un pochino più articolato, come abbiamo fatto noi, che siamo andati, abbiamo fatto una piccola digressione in Veneto, lungo la strada che da Sauris sale a Casella Razzo, tra l'altro andando a visitare tutta quella zona di calanchi coloratissimi e molto rovinati che spesso anche creano qualche problema di percorrenza alla strada, dicevo, dalla sella di Rioda dove siamo arrivati abbiamo imboccato la cresta di Monti, quella cresta erbosa di montagna che ci porta alla sella di Festons. Le immagini che vedete sono proprio immagini di pochi giorni fa per questo itinerario che è davvero molto bello perché intanto si parte già da una quota considerevole, quindi il dislivello non è eccessivo, un'escursione alla portata anche di persone non particolarmente allenate. La caratteristica di questa escursione è quella che si muove lungo questa bella cresta verde che avete potuto vedere in queste immagini, fino ai laghi di Festons, eccoli qua. Li vedete, vedete che il termine lago è un po' improprio in realtà, del lago rimane l'occhio centrale perché ormai la vegetazione ha ampiamente ricoperto, invaso questa zona, però comunque dal punto di vista ambientale ci troviamo proprio in un luogo particolare. avvicinandosi a questi specchi d'acqua, ovviamente l'acqua, la parte liquida si vede più chiaramente, quando come nel nostro caso si ha la fortuna anche di avere una giornata in cui i laghi riflettono il blu del cielo, c'è un modo anche di fare, di scattare veramente alcune belle immagini. Non abbiamo fatto...